Questa volta è arrivata con un mese d'anticipo ed ecco l'influenza il cui primo virus di tipo A è stato isolato a Bari. Si tratta del sottotipo H3N2 che ha largamente circolato anche l'anno scorso così come spiegano dal laboratorio del Policlinico di Bari. Ad essere colpita una bimba di tre anni ora ricoverata al Giovanni XXIII. Il virus isolato con largo anticipo rispetto alle altre stagioni influenzali normalmente avviene tra fine novembre e dicembre e sottolinea la necessità, evidenziano gli esperti del Policlinico, di intensificare la campagna di vaccinazione. Tutti i soggetti a rischio, adulti e bambini e tutti gli over 65 dovranno vaccinarsi per assicurare un'ampia copertura nel momento di massima circolazione ed evitare le complicanze gravi dell'influenza. Anche gli operatori sanitari dovrebbero vaccinarsi contro l'influenza per evitare la possibile trasmissione nelle strutture sanitarie a pazienti critici. In mancanza di questo si può tentare come sempre di tenersi al riparo, evitando di frequentare gente malata, lavandosi spesso le mani e cautelarsi in caso di febbre anche leggera.